Sono oltre un centinaio le situazioni di criticità per dissesto idrogeologico sparse in tutto il territorio provinciale. Una situazione definita preoccupante dal presidente della provincia Tagliolini che nei giorni scorsi ha emesso quello che sembra un bollettino di guerra, frane, smottamenti e buche gigantesche. Comuni e provincia stanno fronteggiando questa situazione con i mezzi e le risorse straordinarie disponibili e che gli è possibile mettere in campo. Diverse strade e località nei giorni passati sono state chiuse a causa dei frane improvvise, molte delle quali ormai però messe in sicurezza e le strade riaperte. Ma in queste ore c'è un altro fronte che sta mettendo in allerta popolazione e amministratori. Siamo nel comune di Mondolfo, al confine con quello di San Costanzo, dove un'intera collina sta scivolando a valle. Dalla via La Coppa che porta al santuario di Madonna delle Grazie si osserva uno scenario veramente inquietante. Quella che vedete alle mie spalle è la collina attraversata in questo momento da questa frana che si sta muovendo. Il fronte è veramente esteso, un dislivello di 5-6 metri per una lunghezza di 7-800 metri. Da qui è veramente impressionante l'immagine che si ha perché tutta la collina, se potete vedere attraverso le immagini dell'operatore Filippo Pucci, è attraversata da movimenti e anche nell'alto della cresta della collina si vedono smottamenti e movimenti franosi. Quel gruppo di alberi di querce laggiù in fondo è l'unica cosa che trattiene alla frana di venire giù e di scendere in quello che laggiù in fondo vedete essere il torrente Rio. L'ultimo baluardo sono gli alberi ai piedi del fronte franoso che impediscono per il momento alle migliaia e migliaia di metri cubi di terra di precipitare sul letto del torrente Rio che scorre ai suoi piedi. Se questo avvenisse, oltre che mettere in pericolo le abitazioni poste sulla sommità della collina, si configurerebbe un disastro ambientale dato che il corso del torrente verrebbe totalmente ostruito. La frana è da diverso tempo che mostra i segni di un movimento lento e progressivo ma dopo i recenti eventi atmosferici come neve e pioggia hanno accentuato ancora di più il suo dislivello su un crinale che già mostrava le ferite inferte da una precedente frana molto più piccola avvenuta per il nevone del 2012.